Dal 6 all'11 settembre il Papa Francesco visiterà la Colombia. Lo farà per rinforzare, per consolidare un processo di pace molto delicato e molto fragile. La Colombia è un paese che ormai non è più in guerra, ma non è ancora un paese in pace. È un paese vittima della violenza che dura da 70 anni, dal 1948, con più di 500.000 morti. Il Papa va lì per sottolineare la riconciliazione, però va anche per sottolineare la centralità della solidarietà con le vittime di questa violenza politica che si è scatenata sulla Colombia in questi ultimi 70 anni. E simbolo della solidarietà con queste vittime di ogni tipo saranno due sacerdoti che il Papa beatificerà. Uno ucciso nel 1948, padre Pedro Ramirez, l'altro ucciso nel 1989, Monsignor Jesús Caramillo. Tutti e due, ripeto, vittime della violenza politica che ha fatto di questo paese forse il più martoriato dell'America Latina. Tutti e due, ripeto, vittime della violenza politica che ha fatto di questo paese.